Laura Beneventi dice, ma prima o poi quei nodi andranno affrontati, altrimenti si infilano nell'inconscio e cominciano a fare ancora più male da dentro e poi non puoi più non guardarli, affrontarli e risolverli. Certo, assolutamente vero, però Ho'oponopono ci insegna che noi possiamo cancellare e trasmutare le cause degli effetti che stiamo vivendo senza bisogno di identificare le cause. Quindi quando noi siamo presenti a noi stessi tanto da focalizzarci continuamente sull'amore e sull'emanazione dell'amore, in questo modo noi trasmutiamo tutte le energie negative o disfunzionali che abbiamo nella nostra interiorità e che generano appunto quelle memorie che ci fanno poi sperimentare situazioni di disagio. Perciò è vero che i nodi vanno affrontati, ma non necessariamente dobbiamo affrontarli di petto. Quando noi amiamo e demaniamo amore andiamo a ripulire tutta la nostra interiorità, sia quella di cui siamo consapevoli che quella di cui non siamo consapevoli. Tant'è vero che appunto a forza di amare i nostri amici, i nostri nemici scompaiono dalla nostra esperienza. Grazie.